buongiorno sono cesare di un seriso in più e vi saluto da un posto molto speciale oggi con la mia moto sono andato in val di scalve in provincia di bergamo vi presento la preso lana e la montagna simbolo della valle ma che bella sono arrivato a pianezza una frazione di vil minore che conta solo 36 abitanti ma ha la chiesa col suo bel campanile con l'orologio che segna l'ora esatta comincio a salire per prati verdi e fioriti la mia meta è la diga del gleno a 1500 metri ci vorrà circa un'oretta prati e boschi per ora molto riposanti come vedete il sentiero è tutto lastricato nel 1917 prima di iniziare i lavori di costruzione della diga se realizzarono strade canali e teleferica ecco il canale doveva portare a valle l'acqua raccolta dalla diga per alimentare due centrali elettriche a valle che dovevano produrre energia per i cotonifici viganò di triugio in provincia di milano la ditta viganò nel 1910 fece redigere un progetto per una diga a gravità cioè che trattiene l'acqua con il terrapieno la strada d'accesso presentò anche difficoltà fu scavata in parte nella roccia viva lassù tra le piante si cominciano a vedere degli archi nel 1922 la diga a gravità fu trasformata in una diga ad archi multipli la cui parte centrale poggiava sul terrapieno precedentemente costruito saliamo ancora e ci avviciniamo alla diga ed ecco cosa appare 13 dei 25 archi che formavano la diga il moncone di sinistra ecco come si presentava la diga terminata nell'ottobre del 1923 e con il bacino già pieno però già da maggio presentava perdite ora più gravi ed ecco la diga oggi il primo dicembre 1923 la parte centrale della diga si squarciò 80 metri dei 260 totali crollarono e rilasciarono 6 milioni di metri cubi di acqua e questo è il moncone di destra i contrafforti interni della diga come potete vedere era costruita anche con una certa importanza dal punto di vista ingegneristico peccato che la parte centrale era stata edificata su un terrapieno che ha ceduto oggi la piccola diga è questa e alle sue spalle il piccolo lago lassù in cima un pannello illustra la storia della diga il disastro causò più di 500 morti nei paesi sottostanti in valle camonica e fino a dar vovo ario e perfino nel lago di seo sceso da quel luogo che fa rivivere un po di storia e un po di tristezza mi fermo all'agriturismo a maiga bassa un luogo fuori dal tempo che offre salumi e formaggi eccezionali da visitare e un salto ai servizi riserva questa sorpresa che meraviglia questi lavandini siamo sicuramente in una maiga con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti